Tutto pronto? Ci siamo? Parti! Cavalli del Gran Premio d'Italia 2019 Brecque un po' incerto per Shikami mentre dall'interno è subito Jigen che va a prendere il comando delle operazioni facendo il suo dovere soprandante in seconda al terzo Chester Honey dopo il break incerto Shikami ha prontamente recuperato con Full of Line insieme a Bainelive che sono in coda al sestetto Jigen sta imponendo la corsa al ritmo che da scuderie le avevano chiesto vuol dire selettivo in seconda posizione all'interno soprandante nei confronti all'argo di Chester Honey poi ancora Shikami su Full of Line quest'ultimo in giubba bianca rossa verde Bainelive con il cap le maniche strisce a blu arancio che segue in coda al sestetto schema che ovviamente non cambia anche se in avanti il leader Jigen ha leggermente decelerato il gruppo comunque rimane con le posizioni inalterate che prevede una soprandante seconda in corda nei confronti all'argo di Chester Honey poi Shikami di fuori con all'interno Full of Line sempre a chiudere il grande atteso a Bainelive questa situazione con nulla di mutato ovviamente sarà così ancora per molto tempo con i cavalli che nel frattempo vanno ad affrontare la piegata finale con Jigen sempre in vantaggio sul soprandante all'argo Chester Honey Full of Line che ha al suo fianco sempre Shikami e Bainelive che non ha fretta mantenendosi sempre in coda cavalli sull'ultimo tratto di piegata finale con Jigen che nel frattempo va in accelerazione quando ormai si entra in retta d'arrivo agli 800 metri finali quelli della pista grande di San Siro quella per Antonomasia che vedono sempre Jigen in vantaggio e reiterano la sua golopata sul soprandante Chester Honey Bainelive comincia a prendere spazio che per il momento non ha dovrà muovere velocemente al largo di tutti c'è l'accelerazione ancora una volta in posti in avanti da Jigen sul soprandante Chester Honey all'esterno Full of Line Bainelive è richiesto e adesso deve ancora trovare lo spazio per andare a fare il suo finale spazio che trovi in questo momento prendendolo su Shikami quando mancano 350 metri Bainelive è dietro per andare a riprendere due compagni di scuderia c'è anche Full of Line Bainelive deve fare molta fatica a questo punto rimane dietro a questo punto non ce la può più fare e allora è Full of Line che va in caccia di Chester Honey i due ci giocano l'Italia con Chester andrà all'interno Full of Line di fuori Chester Honey e Full of Line di Chester Honey l'eterna promessa che oggi dice che il migliore è lui davanti a Full of Line poi Jigen dell'udiantissimo Bainelive solamente quarto